Un posto al sole, lacrime in arrivo per Angela, ecco perché Nanfong Dili. . Anticipazioni Un posto al sole, Nico lascerà lo studio Navarra? Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle prossime puntate assisteremo ad un confronto molto duro tra Nico, Susanna ed Ugo. . 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 Giovane Poggi, scioccata ed incredula, cercherà di scoprire la verità, video virgola e si troverà in una situazione imprevista che le darà la dolorosa conferma della notizia. A quel punto, tornerà a fare la guerra a Franco. Alice vuole andare a vivere con la nonna Marina. . Infine, Alice, la figlia di Elena, comunicherà al padre Andrea la sua volontà di andare a vivere a casa della nonna Marina, nonostante il padre le abbia chiesto di trasferirsi con lui e Darianna alla terrazza. Dopo un duro confronto, la ragazzina riuscirà a convincere il pergolesi. Serena troverà un nuovo inaspettato lavoro, mentre a Palazzo Palladini, come di consueto, Raffaele allestirà il classico presepe, ma dovrà tenere a bada l'invadenza di Otello. Cancelletto SOP Cancelletto un posto al sole Anticipazioni. .